Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Ok. Chi? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo. Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopre su Delaney. Mi spiace disturbarti a quest'ora, ma sono in pieno fermento creativo. Abbiamo pensato troppo in piccolo, Peter. Perché rimpiazzare gli arti con banali coppie quando possiamo migliorarli? Chi ha perso un braccio lo rivoli indietro, è chiaro. Ma noi possiamo offrire di più. Il corpo umano non è un dogma. Esistono prospettive che vanno oltre il nostro vissuto. Riflettici. Dog sta lavorando anima e corpo. Spero che non esagiri. A tutte le unità, richiesto... Ehi, hai tempo di controllare qualcosa per me? Forse. Se me lo chiedi, per favore. Su un tetto di Earth Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri. Ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andretti a controllare, per favore. Ah, le paroline magiche. Spero proprio che si tratti del progetto di qualche studente. Ah, bei tempi quelli. La scuola era molto meno complicata della vita erale. Ah, tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è... Riuscirai a disinnescare le mie pompe. L'uomo del mistero ha disseminato dei punti di ricognizione. Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere. E stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Devo impedire che le bombe esplodano. Contenuto l'esplosione. Ok, ancora una. Contenuto l'esplosione è sfiorata. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Comprometti la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista. E ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. M.J., cos'hai scoperto su Isaac Delany? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delany? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Delany indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Sono tutti in costume. Bravissimi. Ehi, guardateci! Mi scusi, è lei il dottor Delany? Ah, Spider-Man! La mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo! Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Sei il mio! Ehi! Ho lavorato su quel casco per una settimana! Devo trovare il dottor Delany. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Coco! Coco! Sì, mangiate, piccoli miei! Voglio sentirvi gridare! Quel tipo dei dolci potrebbe essere Delany. Devo riuscire ad arrivare lì. Cerco Isaac Delany. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì. La lucertola col camice. Cocco! Cocco! Ehi, c'è Spider-Boy! Sono la tua nemesi! Dobbiamo combattere... Magari più tardi! Qual è il problema? Coda? Hai paura del mio possente corno? Ehi! Ehi! Cosa c'è? Ehi! Lo vatti! Soparucce lo Spider-Man! No! Ma che diavolo? Oh, maledizione! Fermalo! Guardi! State calmi! Ditemi solo cosa volete! È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Tenete giù la testa! Oh, mio Dio! Non uccideteci! State tutti bene? Sì! Bene! Ehm... Felice Halloween! Sì! Creiamo un po' d'atmosfera! Sì! Sì, sì, sì. Dove hanno portato Delaney? Dove mi state portando? Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì. Forse la festa continua. Il nome... Dr. Morgan Michaels. Grazie. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Questo era l'ultimo. Devo trovare lì. Cosa gli ha fatto, Martin? Scusi tanto! Scusi tanto! Scusi tanto! Scusi tanto! Yuri, mi serve aiuto. Hanno segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego. Ti spiego tutto dopo. Anc'è. 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 Scusi tanto! Scusi tanto!